Parte questa seconda fase del progetto di promozione turistica SISISILI che vedrà la Sicilia protagonista a livello nazionale e internazionale. Partirà tutta la campagna promozionale e soprattutto partirà finalmente in maniera operativa la piattaforma per poter finalmente prenotare e quindi i turisti potranno collegarsi, rivolgersi alle agenzie di viaggio autorizzate o i tour operator e potranno finalmente prenotare le tre notte in Sicilia e averne una gratis insieme a tanti altri servizi. Siamo quindi molto contenti di questo perché il lavoro che ci ha messo alcune volte anche in difficoltà ma che finalmente trova ampio respiro per questo progetto da 75 milioni di euro che il governo Musumeci ha voluto mettere a disposizione della filiera del turismo. Io non ho mai dimenticato di essere siciliana, questo per me è fondamentale perché senza le radici affondi, quindi essere siciliana è solo un orgoglio per tutti noi artisti che siamo purtroppo dovuti scappare ma torniamo con grande emozione e piacere.